L'amianto sotto i piedi nel sottosuolo tra Santa Fara e Langiulli, tonnellate di ethernet e rifiuti speciali. Quanta corruzione nelle forniture dalla relazione della Corte dei Conti e altri casi come quelli dei treni d'oro delle Sud Est. Un sì da sogno il nostro live dalla masseria Pietrasole con il numero uno dei wedding planner Enzo Miccio. Tutti ad Avellino la trasferta del bar in Irpini ammette cattivi pensieri sul fronte della sicurezza in partenza anche molti tifosi senza biglietto. Rieccoci ancora qui in diretta allora ripartiamo dal incubo amianto che torna alla nostra città. Tonnellate di rifiuti tombati sono state scoperte a Santa Fara un enorme discarica con polvere di amianto. La procura di Bari ha sequestrato un'area di due ettari vicino all'ipercop di Santa Caterina al centro sportivo Angiulli e i terreni sui quali sono in fase di costruzione diversi palazzi residenziali. Rilievi preliminari tramite georadar hanno permesso di scoprire alcune anomalie nel sottosuolo. Gli scavi hanno infatti fatto emergere diverse tonnellate di rifiuti tombati, rifiuti speciali e amianto frantumato. Inaugurato questa mattina l'anno giudiziario della Corte dei Conti in Puglia è record per numero di denunce ma restano le zone d'ombra nelle pubbliche amministrazioni. Ha seguito per noi la cerimonia Sivia di Pinto. 12.500 denunce nel 2014, il 37% in più rispetto al 2013. Ai magistrati della Corte dei Conti gli esposti arrivano ormai anche dai cittadini anche semplicemente con una mail. Aumentano dunque le denunce a fronte però del poco personale disponibile per le indagini e quanto emerge dalla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Il procuratore regionale Francesco Paolo Romanelli lancia un allarme. Per le scelte del legislatore nazionale spiega nella sua relazione il ruolo dei giudici contabili sta perdendo di incisività perché gli enti locali sono sempre più de-responsabilizzati. Sanità e lavori pubblici, principali ambiti di intervento e poi l'illecita percezione di contributi di fondi pubblici. La illecita percezione di contributi finanziamenti pubblici, diciamo anche molte sempre negli enti locali che concernono l'attribuzione di compensi non dovuti ai dipendenti. A Bari ricorda il procuratore, la Corte ha sanzionato il CDA e il commissario del Consorzio Asi per 100.000 euro per non aver riconosciuto gli stipendi a un alto dirigente. Romanelli cita ancora su Bari la mancata conclusione dei lavori dell'asse nord-sud e il caso eclatante delle telecamere del progetto Poma. Mai entrate in funzione, smantellate e costate al Comune 2 milioni di euro. Luci e ombre dunque nella gestione degli enti locali. Vi sono sia episodi relativi ad una situazione di diffuso malaffare, soprattutto nella materia degli appalti, delle forniture pubbliche, però vi sono anche moltissimi casi di comportamenti come dire, negligenti, cioè dove non c'è l'elemento della intenzionalità, non nell'arrecare un danno, perché è questo che differenzia il dolo dalla colpa. E allora torniamo a Masseria Pietrasole dove Barbara Cirilino è nata in compagnia di un nuovo ospite. Lo ricordiamo, stiamo parlando di matrimoni da sogno. Barbara. E sì, matrimoni da sogno qui a Masseria Pietrasole, sono in compagnia del direttore Gino De Candia, buonasera. Buonasera. Tante coppie che in questo momento non ci sono, non le state vedendo perché si sono ovviamente trasferite nella sala buffet, però qual è la domanda più frequente che una coppia oggi fa prima, insomma, di decidere la sala? Sicuramente chiedono molti diversi sistemi di mise en place che questa sera abbiamo pensato di mettere un attimino su, grazie al nostro al-director Renzo Miccio. E qual è la domanda magari più stravagante che questa sera l'è stata fatta? La domanda più stravagante è l'utilizzo dei diversi ambienti, tutti sono curiosi di visitare l'intera Masseria che questa sera purtroppo a causa tempo non ha la possibilità di offrire degli spazi esterni, ma che comunque sono bellissimi, invitiamo tutti a venirci a trovare, oltre alle coppie che già sono presenti questa sera. E allora io la libero perché so che ha un bel po' da fare questa sera, Alessandra ti restituisco la linea tra poco magari per i saluti. Perfetto, sì. Allora andiamo avanti con l'esplosione nella sala giochi di Altamura, si indaga anche nel mondo della distribuzione delle slot machine nell'ambito delle indagini sulla bomba carta fatta esplodere nella notte tra il 4 e il 5 marzo scorsi davanti alla sala giochi green table di Altamura, provocando il ferimento di otto giovani, due dei quali sono ricoverati in rianimazione, mentre un terzo in condizioni mediamente critiche ma non in pericolo di vita. Da pochi giorni infatti il gestore della sala giochi in seguito ad un furto subito aveva rinunciato alla presenza delle slot nel suo locale. Il gestore nuovo di 56 anni incensurato quando si è verificato l'attentato era nel locale insieme con il figlio, ma lontano dal luogo dell'esplosione entrambi sono rimasti illesi. Non si esclude in ogni caso che l'attentato possa avere anche la firma del racket delle estorsioni. Parliamo dell'AMTAB, costituito un comitato che avrà il compito di controllare gli interventi dell'azienda di trasporto locale successivi alla ricapitalizzazione in attesa dei nomi del nuovo CDA. Questa mattina l'incontro tra il sindaco e il management dell'azienda. Vediamo com'è andata. Sindaco, incontro, AMTAB questa mattina le aveva chiesto di anticipare l'approvazione del bilancio di esercizio. Noi oggi abbiamo costituito il comitato guida che deve verificare lo stato di attuazione del piano di ricapitalizzazione. La città ha messo dei soldi, l'AMTAB deve recuperare dei finanziamenti per poter mettere a posto l'azienda. Ho chiesto di ottimizzare le procedure all'interno dell'azienda, le procedure per le gare relative alle manutenzioni, all'acquisizione di beni e servizi. Stanno procedendo con anche la regolarizzazione del percorso del personale. Contemporaneamente, ovviamente, a tutela dei cittadini della mia città, ho chiesto di rendere assolutamente più efficiente il servizio, che non sarà efficace per ora per una questione di finanziamento dei chilometri. Abbiamo 10 milioni di chilometri dalla regione, ho sempre detto che sono molto pochi rispetto a quello che serve, però almeno quei 10 chilometri devono essere assicurati ogni giorno e ho chiesto all'azienda di migliorare il servizio attraverso l'acquisto di nuovi bus e attraverso le verifiche dell'organizzazione aziendale, sia per quel che riguarda l'officina, sia per quel che riguarda il personale legato al movimento, gli autisti in particolare. Nuovo CDA, sono pronti i nomi? Non sono pronti i nomi, abbiamo aperto il bando, abbiamo avuto molta partecipazione, per fortuna ho chiesto al Consiglio di amministrazione attuale di procedere speditamente con la chiusura delle proprie attività, quindi con la predisposizione del bilancio dell'anno scorso, in questa maniera avrò la possibilità di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione. Combattere la violenza attraverso la parola si chiama Parla con me, il progetto della CGL Bari dedicato alle donne vittime di violenza, non solo fisica ma anche psicologica e verbale, se molte fanno ancora fatica a denunciare, la CGL ha pensato di portare un team di esperti nei luoghi di lavoro, così da aprile a settembre nelle camere di lavoro territoriali si svolgeranno una serie di incontri durante i quali verrà distribuito un test antiviolenza che sarà consegnato anche nei luoghi di lavoro, 14 episodi di vita reale, 3 risposte possibili, una esatta, una sbagliata e una probabile, i risultati emersi dalle risposte serviranno per elaborare un'indagine sulla percezione della violenza di genere, i dati saranno esposti a novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Siamo alla pagina della cultura e oggi vi parliamo del secondo lavoro del musicista Angelo Pasquale De Marzo dal titolo I luoghi della musica a Bari, ce ne parla Isabella Cedro. Parliamo oggi di un libro poco conosciuto ma che costituisce una grande novità e un fiore all'occhiello della saggistica barese, i luoghi della musica, Bari, del musicista laureato in canto lirico Angelo Pasquale De Marzo. Terra di grandi musicisti e teorici dai tempi della Magna Grecia, ricordiamo Aristosseno, Archita, Cleonide e Clinia, il libro racconta di come Bari e l'intera Puglia raggiungano il loro massimo splendore in campo melodrammatico, sacro e strumentale, con compositori del calibro di Traetta, Leo, Piccini, Paesiello, Mercadante, vantando quindi antiche tradizioni musicali, la cui ricostruzione è rimasta a lungo occultata come oggetto di indagine da parte degli storici locali. Convinti che il progresso civile di una grande città si misuri anche dalla sua componente culturale e artistica, il libro di De Marzo ci accompagna attraverso un dettagliato e ricercatissimo percorso della musica antica e moderna di Bari e dei luoghi che la ospitano. La Basilica di San Nicola, la Cattedrale, la Vallisa, i teatri Petruzzelli Piccini e ancora di more luoghi poco conosciuti come la chiesa di San Martino o il Palazzo di Via de Gironda, storica sede della polifonica barese Biagio Grimaldi e altri ancora che sono stati e sono protagonisti della musica nel nostro capoluogo. Non soltanto una guida per turisti quindi, portati a seguire il territorio e le sue eccellenze artistiche, ma una vera mappa del tesoro musicale di Bari, come afferma lo stesso autore a cui chiediamo di spiegarci come nasce l'idea di un libro così diverso e unico e che forse aspettavamo da tempo. La guida nasce da un'esperienza personale. Sono un musicista, amo viaggiare e sono un creativo. Di solito quando viaggio porto con me delle guide turistiche che parlano ovviamente di storie, arte, architettura e mi sono accorto che mancava l'elemento musica. Per questo motivo ho organizzato, creato questo format editoriale nuovo parlando quindi della città di Bari. Ho localizzato quelli che sono i luoghi della musica, ovvero chiese, teatri, auditorium, case di musicisti e quant'altro, rendendo quindi una guida forte e molto importante. A corredo dei miei testi ci sono le accattivanti e bellissime immagini di Ciro Di Maio e poi ho voluto dare anche un'innovazione, dare un messaggio culturale particolare con l'arte contemporanea, dando appunto delle cartoline di arte contemporanea che si possono trovare alla fine del libro, realizzati da Jessica Iapino. E come scrive Angelo De Marzo, ci piace pensare che nel mondo variegato dell'arte un posto d'eccellenza si è occupato proprio dall'arte dei suoni e con l'aiuto del suo libro invitiamo tutti ad una vacanza sull'onda dell'armonia. Allora, saluti finali con Barbara Cirillo per chiudere il nostro live. Barbara? Sì Alessandra, con tutte le idee proposte da Enzo Miccio, chissà se gli sposi baresi presenti questa sera a Pietrasole avranno le idee più chiare. Nel frattempo io ti ringrazio, ti saluto e saluto ovviamente tutti i nostri telespettatori. Buona serata. Grazie, ringraziamo Barbara. Allora siamo in chiusura, però aspettate dopo la pausa pubblicitaria parleremo di crisi, ci chiederemo se appartiene ormai al passato. Lo faremo col vicepresidente dell'Adusbef Puglia, l'avvocato Massimo Melpignano. Tra poco.